2.228 le persone controllate, 7 indagati, 37 i treni presenziati, 7 veicoli ispezionati, 58 le contravvenzioni elevate, 262 le pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria. Questi sono i numeri dei controlli effettuati dagli agenti della Polfer di Catania nell'ultimo mese sul territorio di competenza. In particolare un 57enne catenese è stato denunciato perché inosservante ai provvedimenti dell'autorità. Il titolare di una ditta di raccolta e trasporto rifiuti è stato invece denunciato per la violazione dei sigilli e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Un 61enne invece è stato deferito all'autorità giudiziaria per i reati di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Grazie ai servizi mirati all'installazione di fototrappole in collaborazione con FS Security si è risaliti all'identità del presunto autore delle azioni criminali. Un altro soggetto è stato invece denunciato per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza espletando i bisogni fisiologici in presenza dell'utenza ferroviaria davanti all'ingresso della stazione centrale. Tra i denunciati è anche un minore che si era rifiutato di esibire documenti di identificazione. Un cittadino ungherese invece aveva acquistato un biglietto ferroviario con del denaro sottratto ad un conoscente. Pertanto l'uomo è stato denunciato per il furto di 40 euro e il titolo di viaggio è stato sequestrato. In ultimo è stato identificato e denunciato per lesioni un uomo che aveva aggredito per futili motivi una persona nel piazzale antistante la stazione centrale. I servizi di controllo sul territorio di competenza della sezione Polfer di Catania saranno ulteriormente intensificati nel corso delle festività natalizie, quando è previsto un aumento del flusso di viaggiatori, vigilando in particolare sui convogli in arrivo e in partenza dal capoluogo.